Ciao a tutti appassionati di calcio e benvenuti sul Top Sport News, il vostro canale dedicato alle ultime notizie sportive. Oggi abbiamo una notizia davvero speciale, un'intervista esclusiva rilasciata da una leggenda del calcio, Goran Pandef, che non solo è una figura unica nel mondo del calcio, ma anche un vero e proprio emblema dell'Inter. Prima di entrare nei dettagli, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, se siete appassionati di sport e desiderate rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Mettete anche un bel mi piace al video per mostrarci il vostro supporto. Nell'intervista, Pandef ha espresso con enfasi la sua incrollabile fiducia nelle prestazioni della sua amata Inter, per questa stagione calcistica italiana tanto attesa. Ha descritto il club nerazzurro come una vera potenza in ascesa, evidenziandolo come la squadra più solida e formidabile che la Serie A possa offrire in questo momento. È chiaro che Pandef ha compreso appieno l'ambiente altamente competitivo della Serie A, ricca di sfide e concorrenza agguerrita. Ha menzionato il Milan come eterno rivale dell'Inter, la Juventus, una squadra che ha scritto la sua storia in questo sport, e il Napoli, un formidabile avversario. Questa prossima stagione si preannuncia come una vera saga, una battaglia epica per il titolo. Pandef, con la sua lunga esperienza nel calcio italiano, ha condiviso le sue aspettative per la prossima stagione, prevedendo una Serie A elettrizzante e altamente competitiva. La sua fiducia nell'Inter sembra essere influenzata dalla sua precedente esperienza con l'allenatore Simone Inzaghi. Conosce intimamente l'approccio tattico di Inzaghi e la sua capacità di motivare i giocatori. Insomma, la stagione che ci aspetta sarà un viaggio elettrizzante per gli appassionati tifosi nerazzurri, pieno di sfide, emozioni e momenti memorabili, che sicuramente passeranno alla storia. Ora vogliamo sapere la vostra opinione. Cosa pensate di queste parole appassionate di Goran Pandef? Siete d'accordo con lui sulla forza dell'Inter? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E non dimenticatevi di rimanere sintonizzati su Top Sport News, per ulteriori aggiornamenti su questa emozionante stagione calcistica. Iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche per non perdere neanche una notizia sportiva di rilievo. Grazie per averci seguito e alla prossima notizia.